Ciao bambini! Non vedo l'ora di farvi vedere che cosa faremo oggi. Lo sapevate che il Palazzo della Meridiana ospita anche eventi, feste, matrimoni, compleanni? Per far sapere dove e quando si terrà la festa ci vuole innanzitutto l'invito. Faremo un bel biglietto pop-up! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!